7 8 4 ho trovato un blocco ad 8 diamanti è legale un quadrato un cubo voglio bannarti cheater dai vieni a vedere questa fantastica costruzione naturale aspetta mattina devi solo seguire il coso verso gli diamanti eh ho capito un attimo sto scavando attorno per mantenerla visibile e strafighe e per evitare che c'è della lava in ultimi ma alla fine come si dice? non so non c'è modo di dire che ci assomiglia tanto più che ho quasi finito il piccone davvero and more iron vuoi dei picconi? no si non mi fanno schifo devi solo seguire la strada in avanti penso perchè non mi pare di aver fatto delle reazioni no non ci sono sono sette quintali di miliardi di pietra 7 miliardi di quintali di pietra 7 quintali di miliardi di pietra quel miliardo di pietra se ne sono sette quintali nooo eccomi eccomi ok smelta il resto dell'iron allora poi prendo tutto io aspetta come era veramente necessario si mettine tipo 8 in ognuno che ci metto il coal c'è ancora fino a domani altrimenti scherzo si mesi 15 in ognuno che ti vada bene ok hai riempito tutta una? no ecco se no quasi ecco manca una una vabbè lascia così adesso hai riempito quella là in fondo tra parentesi si si ho visto ci metto la merda qua che magari dopo ci serve non lo so comunque non penso sinceramente anche io metto un po' di prima cosa sono sti semi del cazzo li lasciamo cioè me ne faccio qualcosa dei semi tieneli vabbè metterli ho detto qua secondo me abbiamo la piantagione di melon vabbè qua ci metto la roba comunque se ci serve dopo la prendiamo altrimenti no butto anche la red lascioci tutto a caso ok questo oro vabbè lascio lì string 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 anche io questi e faccio qualche piccone io eh sì mi metti io sono già full equip no ho aperto ho aperto ho aperto il cesto cosa? sto dicendo ho aperto beh sembra logico beh uno due tre quattro affanculo cinque piccoli spada di ferro spada e diamante la metto qui tengo questo metto via la gravel di merda oddio il telefono si sente così il telefono si mettiamo sopra quello che sembra importante sotto quello che sembra di meno no no che io probabilmente dovremmo portar via insomma ma si quai questa roba qua è tutta inutile più o meno tranne l'enderai e il andiamo 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 stupor l'attore ok allora possiamo aspettare qualche finisco sto ferro del cazzo tanto se ne manca due spunt due ah come si è messo con gli oggetti cosa tu il necessario eh per fare cosa niente per spade piccoli si non mi sono fatto niente di particolare mi sono fatto qualche piccone quello mi basta le pale se ce le ho bene se lo uso le mani si va bene io ti porto bene se me dai 1 o 2 falle non ho il stick che nob eh 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 nob hai svuotato i cosi non più neanche ferro ah ecco nob per te lo fai eh due per te che finiscono le fornaci vuota 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 questa è la speranza ok una se l'ho già mezzarotta quindi si recupero fornaci carbone e andiamo ok quindi strevale qui mettiamo questo ma lasciamo qui solo le cose molto molto minuti che probabilmente non andremo a prendere tipo non i diamanti no 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 aspetta aspetta perchè no 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 lascia qua magari non ci torniamo c'è capito di andare in avanti tommeno sono indietro ma magari non riusciamo tornare indietro per qualche motivo perché non so la frana si si è un terremoto sono cristo il panico oh ah 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 dai ora la roba qua sotto cosa prendo io quella che serve si adesso no i seed si servono oppure no secondo me no abbiamo una pentasone di seed di meloni già si e ora ok i pumpkin ci servono abbiamo già dei semi di bico zucca ce li abbiamo già? si allora non ci servono l'oro prendilo tu se ne freghi vabbè lascialo lì quello ne ho già 23 non c'è un cazzo tutto quello c'è dove faccio solo il glistening melon per farci posizione di cure prendilo se ne freghi schifo non fa la piasflazzoli ci serve una qualcosa? non lo scioglio adesso probabilmente no ma lo prendo lo stesso c'era tipo uno di carbone lì sbagliato si ferro ne hai? si ho 20 blocchi vabbè eh ottimo ci sono ancora i diamanti eh poi in fondo ti ricordo sempre così che tu non oh dimentichi ok possiamo andare ho ho shit armor mi ho un po' si esplodendo non tanto eh mi cederei già ancora ho il chest plate che sta esplodendo io ho le scarpe che non hanno più un segno le scarpe l'ha appena rifatto e l'ho visto ci ho visto che ho buttato via le altre quindi no su posto su posto esatto cosa ti facciamo? mi da fastidio che ci siano dei buchi per terra ok a posto guarda che bel bloccone lol l'ho 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 presunti io 12 ok io ne 8 quindi 20 siamo quasi alla fine della prima armatura no bene dove andiamo beh cosa io scavo in là altri diamanti cosa what the fuck perchè il testo il legale legale c c'è un altro intorno ok io scavo in te lo dico bene trovato 15 diamanti 15 più 8 troppo 23 manca uno per la prima armatura chiaramente non le useremo e tenteremo di incantarle se possibile cosa? tenteremo di incantarle per il blast damage fall damage fall damage? perchè? perchè se cadi da un pilastro di ossidiane fa male? è abbastanza non so sinceramente come si possono usare anche con le frecce noi si e sinceramente penso che faremo così penso che scavare e andare su che cazzo non servono neanche piccoli diamanti in realtà servono delle spade si spade i diamanti si degli archipotenti tante frecce e tante spade non tante spade, delle spade potenti e tra parentesi consiglierei di crearsi una base nel land prima di andarci con tutta la roba quindi ci si va la con della roba che bisogna lasciarci e poi con dei chest ci si fa una base lontana con l'ossidiana si insomma si ricopia pari parito ah ok posso perfetto l'hai visto quel video? si se vuole tipo tonso o ossidiana esatto tonso o ossidiana ce la facciamo con calma con la redstone la facciamo e via quindi c'è un piccone di diamanti ne abbiamo uno si bene quindi praticamente cosa faremo cari lettori ci dovremmo fare una cosa tipo per non vedenti no non vedenti no per non vedenti minecraft per non vedenti la nuova serie come ci giochi? con le mani non è possibile andiamo là con dei chest la roba che dove ci facciamo una piccola base là lontano dall'isola principale facendo un ponte largo uno ma Mattia scusami è veramente necessario? no però è figo e poi là dove c'è se puoi farlo con landstone che cazzo ne fai di farlo con lo ossidiano devi raccogliarla all'alentone in mezzo agli enderman ti fai un buco sottoterra ti passa il drago non è vero sicuro? abbastanza non passa attraverso la si che ci passa attraverso attraverso la landstone non credo passa attraverso sia l'alentone che la coso la coso stone non una collisione con niente perché dava troppi problemi ah certo vabbè comunque non penso che vada vado sotto un certo livello perché mi era capito di andare nel land una volta e ero sotto il sotto la superficie mi sembra che avrei un po' paura per qualche motivo beh ci andiamo con niente giusto ci andiamo con un piccone di ferro poi dopo la roba ce la portiamo una volta che abbiamo fatto la base giusto giusto bene tanto ora che troviamo il coso quest'anno 28.000 puntate puntata 1640.000 la rata tararata 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 riggio si è messo con no in questa puntata l'ender dragon mangia no amber ok quante storie ah! lava sopra la testa beautycraft ah! tararata 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 devo farla mod ogni tanto quando sei sulla spiaggia fare cosa in bikini che corre the fuck cos'è? quelle dei watch tom? eh la stessa cosa ahahah ottimo sono la stessa serie televisiva tu credi che siano due serie diverse no? ma in realtà brothzi SERIO risposta ha fatto successo in realtà non penso sai perchè non sto andando un cazzo non c'è niente c'è il karma con il karma non è il karma non c'è nulla non trovato venti diamanti in 0 2 secondi è chiaro non troviamo niente adesso kı inquad antibiotico si senta Arata tarata tarata tararara tarara tarara tan tan tatan tan tan si si fa anche le stagioni Mattia craft studio di end stagione 1 un po' di fruscio magia che è a posto sento un po' di fapping cosa? sento del fapping scavando dello schifo no, 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 sento delle... ah, delle slime slime la cazzo è venuta fuori la farmi slime non so come farla sinceramente non puoi, fai un mega buco layer 0 poi aspetti mega buco non capisco dove sono cosa? non capisco dove sono aspetta, 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 aspetta non so più se siamo all'interno della nappa oh, è ancora all'interno oh, merda l'hai trovato? forse non è che ho avuto queste fighissime features delle goccioline di lava io però non le ho viste, tra parentesi non le ho viste prima io ne ho scavato sopra e c'era della lava ah, non sono cose, sono... e là sono le bollicine della lava eh? sono le bollicine della lava non erano... ah, tss nel tutto basta i diaganti adesso sto cercando di risalire questa oh ecco stai tocando la caverna e poi arrivava questa lava beh non arrivi mica sempre dalla caverna beh insomma infatti è una pozza probabilmente fuck un pirla stai a provato la stazione di tons of shit no ok 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 ecco ok 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 il matrimonio un certo potremmo chiaro però non lo faremo quindi ragazzi la vostra inizia salvo per come un'altra scuola per troppo questo non è neanche io la scuola ore ore di tu un altro del ferro della redstone e e e e e e e e e diamanti se trovate adesso e che cazzo di culo quanti almeno due forse basta 3 sento eco 4 5 6 forse 7 non so devo scavarla sotto forse della lava mi aspetta un attimo sento eco 6 7 7 amanti come prima non ne manca uno d il tuo ecco è ancora ancora sposo così cosa non lo so e non mi interessa l'interno se registrarse cerco quanto ecco otto comunque quanto ecco senti e costa cosa staccare fisicamente per il microfono cosa c'entra con lei prova se niente le cose e tu o ne mio e del tuo solo e della mia so so e allora cosa vuol dire staccare per me non lo so provare a caso di anasis non ha neanche senso che ci sia ecco adesso prima no ora non c'è più va no c'è ancora no non c'è più eh vedi cosa spettacese questo questo questa è stata questa cosa è stata tipo 5 secondi tanto sto scavando dritto capirai capirai bene 8 o 23 diamanti dg e ha finito apriare la sua parentesi più 8 23 più 8.31 prezzo io ho fatto niente ferro c'è veramente zero quasi solo cobols altri ah era 8 comunque se si 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 n ed io ho troppo di cobbesso per questa rezzo tutto op ahahah mary christmas we wish you were a test us wish you were a test us wish you were a test us a te io certo piccoli t e allora a ahahah cosa per me la lavata trattare un diamante se va anche con diamante si serve si vuole no stevon abbondanza sento la a tuttavia tutto anch'io il profondale venduto troppo pro apprezzano ben capito l'eco scusa storia dell'eco ancora mi sfugge storia dove cerchiamo un senso alle cose e noia questa logica fredda cosa? sono caduto in un buco e vedendosi dentro della roba più chiara senza rendermi conto cioè ci sono caduto dentro e mentre cadevo ho visto la roba chiara era il dirt era venuto un cuore ciao ciao ciao